Andiamo avanti in questo terzo casting Amici di Mistopolini Vi presento l'aspirante numero 36 Nome? Rosaria Torre Rosaria Che bel nome che hai Rosaria Rosaria guardate L'avete già notato prima di me Ma ha dei capelli straordinari Bellissimi Quanto tempo ti occupano a curare i capelli? Un'oretta Un'oretta al giorno? Che no Mezz'ora Sì dai Mezz'ora Però sono davvero molto bella Rosaria Insomma adesso voglio sapere un po' di cose su di te Quindi stai tranquilla Perché lei è davvero molto timida Molto emozionata Tanto partiamo dall'età Quante anni hai? 16 16 anni Segno zodiacale? Cancro Cancro Quindi segno di fuoco? Sì Tra poco dovrebbe essere il tuo compleanno? Sì Quando? Luglio 5 luglio 5 luglio Ok va bene Quindi sei una persona determinata Sbaglio? Sei determinata? Sì Passionale? Sì Ok bene Quindi tutte cose tra l'altro ti aiuteranno qui a Mistopolini? Sì Speriamo Speriamo Ok senti Cosa fai di bello nella vita? 16 anni? Io studio all'Asseform Sua secondo anno Hai intenzione di studiare che anno sei? Secondo Secondo anno Quindi cosa hai in mente di fare dopo il liceo? Di un'università? Lavorare? Non lo so Ancora? Ancora Però un sogno nel cassetto magari ce l'hai? Sì Cioè Fara la modella Fata modella Mi piace La modella Va bene La modella Ti affascina il mondo della moda? Indossare questi abiti belli Tutti pagliettati Che belli Eh? Va bene Senti allora Rosario Bel nome Allora per te La telecamera lo so che è un oggetto invadente Ma dobbiamo superare e vincere l'emozione Quindi puoi salutare chi vuoi Fatti conoscere al grande pubblico di Mistopolini Saluto il mio migliore amico E mia sorella che mi ha accompagnato fin qua E mia mamma E in bocca al lupo a giù Creppy Ciao Grazie a tutti